Giovani chef in gara all'IPRA, studenti a confronto nella preparazione di un cocktail e di un antipasto con un vino abbinato, i vincitori guardano all'estero. Continuiamo a parlare di cibo, si chiama Tre Amici, un'unica passione, la squadra di ragazzi che si è aggiudicata una borsa di studio dell'IPRA, l'istituto che ogni anno sforna 40 giovani pronti a spiccare il volo nel mondo della ristorazione anche all'estero. Gran finale all'istituto professionale e regionale al Belghiero della gara per tre borse di studio, preparare un cocktail e un antipasto con un vino abbinato, la sfida dei tre team in competizione, composti da uno studente di cucina, uno di sala, un sommelier. Tutti i diciottenni agguerriti, in un periodo in cui gli chef spadroneggiano il tv per una carriera nel settore conta una reale motivazione, una quarantina a quelli sfornati ogni anno dall'istituto. Cerchiamo proprio di metterli in pratica e di fargli vedere quello che effettivamente è questa professione, che è sacrificio, che è umiltà e tanta voglia di mettersi in gioco e mai sentirsi superiore agli altri. Tra i concorrenti in cucina, Mattia, che si è aggiudicato l'ambita borsa di studio, arriva da Mantua e non teme il futuro. La ricerca di talenti di cucina, sommelierie, bar o comunque anche camerieri in sala c'è sempre perché la ristorazione è un settore che credo che non fallirà mai perché tutti abbiamo bisogno di mangiare. La famiglia di Kicca ha un albergo, ma lei non pensa al posto assicurato e guarda lontano. Preferirei viaggiare, magari soprattutto in Inghilterra e imparare sempre di nuovo perché non bisogna mai fermarsi in cucina, c'è sempre da imparare ovunque. Elisabeth punta sull'Asia. Vorrei davvero andare all'estero, non solo in Inghilterra ma anche in Giappone, in Corea, nell'Asia. La scuola offre la possibilità di partire ai diplomati più meritevoli che spesso prendono il volo. Abbiamo anche oggi molti ragazzi che hanno trovato proprio lavoro grazie a questi stagi all'estero. Possono formarsi, possono crescere anche professionalmente con lo scopo un domani di poter venire in valle e cercare di apportare e condividere anche con noi queste loro esperienze. E finiamo dunque.